8 maggio 1898. A Torino si disputa in un'unica giornata il primo campionato di calcio di Serie A. Se lo aggiudica il Genoa, che supera in finale l'Internazionale di Torino. Il campionato viene organizzato dalla neonata federazione italiana Gioco Calcio. La prima partita ha inizio alle 9 del mattino, la seconda semifinale alle 11 e nel pomeriggio si svolge la finale. Spettatori presenti, un centinaio. Incasso, 197 lire. Siamo agli inizi dell'era del calcio e il fair play è di rigore. Il Genoa Football and Cricket Club 1893 compie 70 anni. È il nostro sodalizio calcistico più antico, uno dei più blasonati, giocché ha vinto 9 titoli di campione d'Italia. Ma, prima di tutto, perché quel nome forestiero? È semplicemente un omaggio alle origini. In Italia, alla fine dell'Ottocento, giocano al football soltanto gli stranieri. Il paese si è appena ripreso dalla batosta di Adua e lavora duramente, a Genova più che altrove. Negli uffici delle società marittime e sulle banchine del porto, una brigata di giovani inglesi decide di fondare un circolo sportivo per occupare il tempo libero. È il settembre 1892, quando nasce il Genoa Cricket and Athletic Club. Non è passato un anno che il calcio entra di prepotenza alla sua maniera nel club e il Genoa vince addirittura il primo rudimentale campionato italiano. Tra i footballers, che giocano sul vecchio campo di Porta Carrega, c'è anche Edoardo Pasteur, discendente diretto del grande biologo francese. Il nostro era un campo con delle porte senza reti dietro e tutte le domeniche mattina, prima della partita, in due o tre, con un annaffiatoio, si segnava il campo con le righe normali. La squadra del Genova era composta di cinque soci del Genoa Club e gli altri erano tutti operai delle officine Bruzzo di Bolsaneto che erano qui a lavorare in feriera.